Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio qua su Farming Simulator 22 Oggi c'è Ema03 Ciao a tutti E poi Stefano Zamparini che può salutare in chat Che è uno di voi, uno che commenta sotto i video, l'avete sentito spesso Ma perché qua? Perché viene a giocare su server pubblico E ogni tanto da oggi in poi pescherò qualcuno di voi che gioca su server pubblico Vi lascio tutti i dati per accedere in descrizione Appunto andrò a selezionare qualcuno di voi e appunto lo porterò dentro in partita Oggi non c'era Agronard e di conseguenza ho preso la scusa di utilizzare Stefano per rimpiazzarlo Ma a parte questo vi auguro a tutti un buon anno Dato che nello scorso episodio l'avevo fatto tipo alla fine dell'episodio Adesso siamo all'inizio quindi auguro a tutti un buon anno E assolutamente a proposito di server pubblico Sì Ema dopo ti faccio fare gli auguri Ema Che si sente lì Ma scusa stavo parlando E si sente basso E anch'io, anch'io, sì sì, gli faccio anch'io gli auguri No, no Sì dai fammi finire questa frase E dopo ti faccio fare gli auguri Comunque stavo dicendo che a proposito di server pubblico Oltre a lasciarvi i dati in descrizione Vi lascio anche un link di Nitrado per acquistarlo Perché è il nostro partner tecnico per la fornitura dei nostri server di gioco Quindi ringraziamo tanto Nitrado per averci fornito un server gratuito In cui farvi giocare E ovviamente se volete supportare il canale E non sapete quale server scegliere Dato che me lo chiedete spesso C'è il link di Nitrado in descrizione Nitrado, non Nitrado ammonico C'è il link di Nitrado in descrizione Ve lo consiglio Abbiamo deciso anche di diventare partner Perché noi ci siamo sempre trovati molto bene Anche quando anni fa li acquistavamo Di conseguenza ve lo consiglio Ragazzi li ho provati tutti Ce ne sono di altrettanto validi Non è che sto screditando i competitor Però comunque tanta tanta roba E ha un comprezzo discreto Insomma giusto Allora oggi semina soia Mentre Ema sta accumulando Tutti i balloni che abbiamo fasciato con Agron Nello scorso episodio Li sta accumulando a bordo campo Per liberarlo in vista dei prossimi sfalci E soprattutto per permettere alle balle di fermentare Una volta fermentate Decideremo quali vendere E quali utilizzare nel nostro allevamento Qua allora Ema dove vado secondo te per seminare Vado direttamente al campo nuovo quasi quasi Cosa dici? Sì sì andiamo al 23 Ok perfetto Allora accendiamo i lampe Ma i freni di Stovaltra fanno cagare Cioè Ok Ho detto che lo sta facendo Stefano? No Ecco Ragazzi Stefano sta svuotando le nostre vasche del liquame Non abbiamo nessun posto in cui liberarci dei reflui zootecnici E quindi dopo aver rimosso i balloni Dopo che Ema avrà fatto il suo lavoro Andremo a distribuirlo lì Ma per ora lo stiamo vendendo al biogas Così faremo anche con l'etame D'altronde fino a quando non avremo tanti campi Non avremo abbastanza spazio Per distribuirlo Considerando anche che facciamo le cover Di conseguenza aumentiamo già il grado di fertilizzazione del terreno Io vi taglio il viaggio Perché col joystick è una cosa inguardabile Arrivare in campo E ci vediamo fra pochissimo Oh ragazzi Eccoci in campo Con la nostra fantastica Amazon Precea A4500 2C Super Sì ho letto A parte gli scherzi Macchina di precisione di Amazon Nuovissima Perché è uscita l'anno scorso Sembra veramente interessante Mi piacerebbe vederla dal vivo Non ho ancora avuto occasione Se non a Ema proprio Di sfuggita Ma mi piacerebbe proprio vederla In campo Già settata la GPS Direi che possiamo partire È una macchina Grazie alla quale si riesce a seminare Molto molto velocemente I 12 chilometri orari Anche nella realtà Se li beve Posizionando sempre Il seme In maniera Perfetta Molto molto precisa Si chiama Prece Vabbè Lasciamo perdere Detto questo Ema Ho selezionato 6 domande Dallo scorso episodio Che puoi fare Rispondiamo molto velocemente Qual è il discorso? Avete fatto domande Nello scorso episodio Quello dove abbiamo Interrato la cover Molto molto interessanti E mi sarebbe piaciuto Selezionarle tutte Ma salta fuori Nel episodio da mezz'ora Quindi se non ho risposto Alla vostra domanda Se non risponderò Alla vostra domanda In questo episodio Fatela Riproponetela magari Nei commenti di questo Se invece rispondo Non riproponetela Se ne avete una nuova Proponetela Vai Ema Certo E certo Ok Vai Intanto Faccio i miei auguri Di buon anno Tutti Le ha fatti Ragazzi Le ha fatti Anche lui Stefano Fammi in chat Perché se no Guarda 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 Va a finire male Devi farmeli anche te in chat Stefano So che sei impegnato Nella vendita degli quami Ecco Allora Vai Luca Ciao Giuliano Gran bel video Come sempre Volevo chiedere a te Agli altri Del salotto Se vi siete mai incontrati In real life E si Se si come è stato Grazie sempre Sei il top Cavolo L'intonazione I tempi Vabbè Lasciamo perdere Fantastica interpretazione Da parte di Emma Il ragazzo che ha fatto la domanda Si chiama Luca Giusto? Sì Ok E ti salutiamo Luca Allora sì Ci siamo incontrati Nella realtà L'unico che non ho incontrato In vita mia È Beppi Gli altri li ho incontrati tutti Pure Stefano Zamparini Penso E Emma E Luca Zero due Li ho visti Ben un paio di volte Se non tre Addirittura Tre Tre Te le segni Te le segni Le volte in cui si vediamo Forse anche quattro Forse anche quattro Ok Perché Pensarci bene Ci siamo visti A Fiera Agricola 2020 E Emma 2021 Trattorista dell'anno 2021 Beh Luca L'hai visto a Cremona Luca l'ho visto a Cremona Poi ci siamo visti a Cremona Anche io Anche con me A Trellerburg Ok Sì E l'ho appena detto Trattorista dell'anno Sì comunque Veniamo a quello che vi interessa Com'è stata la reazione Io Ero Diciamo già Era una cosa Diciamo un po' Ci sta ragazzi Anche se Sono persone con cui Ci parlo Quasi quotidianamente Ma ci siamo sempre sentiti Tramite TeamSpeak Capite bene Che L'approccio dal vivo Magari c'è sempre un po' Di imbarazzo E cose del genere Insomma è una cosa che Mi è sempre appartenuta Soprattutto quando ero Più giovane Ultimamente Col lavoro che faccio Negli ultimi due Tre anni Incontrare persone Che Conosco diciamo Su internet O comunque Solo tramite mail Eccetera Mi risulta molto più Facile Sciolto Sono già preparato Quindi diciamo Non è che ci sia stata Un'emozione del dire Oddio Incontro Ema Zero Tre No ecco Una roba del genere Assolutamente Però insomma Mi ha fatto piacere Incontrarli Come me li aspettavo Perché comunque Li avevo visti in foto Bene o male Sapevo E niente Invece Diciamo un po' Da parte di Ema Com'è stata Prima impressione Di la tua Anch'io Ho il problema Come te Che mi imbarazzo Un po' Niente Eh la prima volta Devo dirvi che Ema era abbastanza Imbarazzato Io ero Sciolto Vabbè Poi mettete Abbiamo anche un bel po' Di anni di differenza D'età Quindi potrebbe essere Anche quello Cioè lui Affronta In questo momento Quello che io Anni e anni fa Affrontavo Come Come paura No E quindi Sì l'ho visto Un po' imbarazzato Però già dalla seconda Volta era Era più sciolto E Però si è stato Molto semplice Nulla di trascendentale Ragazzi Insomma Sono più Emozionato A uscire la prima volta Con una che mi piace Sinceramente Chi è che lo è Scusa Ci siamo Ci siamo capiti Ecco E ho detto una Apposta Ma Ragazzi Senza ovviamente Voler male a nessuno E Vai con la prossima Che ci stiamo soffermando Troppo su sta roba Certo Martín Ciao Giuliano Martín Eh Martín Eh cos'è Com'è lo dici Scusa Vai Ciao Giuliano Sempre ho avuto i miei video Cosa ne pensi del fatto Che nella borsa agricola Ci siano tanto margini Di pagamento Tra una cultura E l'altra Allora Caro Martín Ti dico che è normalissimo Perché capisci che il grano Ha costi di produzione Ben differenti Rispetto a una soia Rispetto a un mais Cioè Il mais è costosissimo E quindi è normalissimo Che ci siano queste differenze Se magari non ho colto Il senso della tua domanda Puntualizza nei commenti Appena li vedo Rispondo Anche lì ragazzi Mi dispiace Che manchi la risposta diretta Nei commenti Però Diciamo che Luca02 E Turbo Star Sarebbero Gli addetti A A rispondere alle domande A rispondere ai commenti Più semplici Però fanno fatica Fanno fatica Come faccio fatica io Ed è per questo Ho introdotto il format Di Di rispondere alle domande Qua negli episodi Quindi ragazzi Portate veramente Pazienza Vaiiamo a quella prossima Sì Un attimo Allora Ti ho fregato Pensavi che andassiamo in tv Sì mi ho fregato Perché stavo Sendo più di una cosa Allora Aspetta Michele Gran bel video Giuliano Ma Che differenze c'è tra Passare un trince a stocchi E un rullo crimper Sugli stocchi Compreresti mai Una seminatrice Per l'8R Allora Compreresti mai Una seminatrice Per l'8R Ti dico già Che mi sarebbe piaciuto Mi piacerebbe Per sfruttarlo Al massimo No Che così Nel momento in cui Devo seminare Cavolo Sfrutto l'8R Che è una bella macchina E Ti dico che però È una spesa Veramente inaffrontabile Per come adesso La finanza agricola Le finanze Della mia azienda Per quanto riguarda La differenza Tra trince a stocchi E il rullo crimper Devi capire che sono Due lavorazioni Totalmente differenti Che hanno costi Operativi Totalmente differenti I costi sono molto maggiori Sul trince a stocchi Però anche il risultato È totalmente diverso Cosa intendo Che il rullo crimper Diciamo che Pesa tanto Ha delle Un profilo tagliente Di conseguenza Piega La nostra Diciamo Infestante Comunque materiale Da tagliare Lo piega E con il suo stesso peso La taglia Pezzettini Però non è detto Che riesca a tagliare Tutta la massa vegetale Che passa sotto Il rullo E quindi Diciamo che il risultato È probabilmente Accettabile Nella maggior parte Delle situazioni Ma non ottimale Invece Il trince a stocchi È una soluzione Definitiva Perché Con la forza meccanica Ovviamente Un costo operativo Superiore Macina tutto Quello che passa Sopra Ovviamente Se è un buon Passa sotto Ovviamente Se è un buon Trinci a stocchi Quindi Questa è la Differenza principale Vai Ema Con la prossima Sì Eh Ehi Alberto Bertossi Eeeh Vai Vai Ciao Alberto Ema è così Porta pazienza No È che Non ho più via Allora Eeeh A parte Aspetta un attimo Sì A parte Ema dice Ema è reso che ti fa Ema è reso che ti fa Le ancore con l'attrezzo abbassato A parte gli scherzi Ma secondo voi Qual è la marca Di pronuncici migliori E a cosa serve Il disco Sulla destra Della dischiera Allora Tu stai parlando Della dischiera Agromath Il Intanto Sì è vero Ema ha distrutto Le ancore In retromarcia Però vabbè Lasciamo Lasciamo perdere E Il disco laterale Sull'agromath Serve per Finire Diciamo La passata E far sì che non ci siano Riccioli Solchi O cose strane Diciamo è un disco Riparatore Perché diciamo Che l'ultimo disco Bombato Della dischiera Lascerebbe un solco O una cunetta Dipende da come è girato E infatti Da una parte La dischiera Lascia una cunetta E dall'altra Un solco E questo disco Serve per Sistemare il terreno In questo difetto Che hanno tutte Le dischiere Molto molto Semplice Per quanto riguarda La marca migliore Di pneumatici Ti dico che Ormai Il giorno d'oggi Possiamo classificare In I pneumatici Agricoli In pneumatici Economici Di bassa Mediofascia E pneumatici Costosi Di alta fascia Con prestazioni Costi e tecnologie Totalmente differenti Nella media Bassa fascia Troviamo Seat BKT Nokian Continentale Media E Giù di lì Invece Nell'alta fascia Troviamo Mitas Anche nella bassa fascia Nell'alta fascia Troviamo Michelin Trelleborg E adesso Mi scappano le altre Comunque Diciamo che Nell'alta fascia Ci sono più Più soldi Più tecnologia Più investimenti Di conseguenza Tendenzialmente Hanno prestazioni Migliori Invece La bassa fascia Scusate Se mi impappino Diciamo che Dispongono di Meno Soldi Per gli investimenti Di conseguenza Sono un po' più lente Con le varie Innovazioni E sviluppi Questo non vuol dire Che siano peggiori Sicuramente Magari Hai prestazioni Di Compattamento Pulizia Dello pneumatico Dal fango Inferiori Sulla fascia Bassa Ma non è detto E invece Sull'alta fascia Tendenzialmente Appunto Hai prestazioni Migliori Definire il migliore È molto Molto Difficile Su una Gomma Perché Purtroppo Con le gomme Entrano in gioco Dei fattori Dei fattori esterni Non indifferenti E anche Un'alta Diciamo Percentuale Di difetti Di fabbricazione Quindi potrebbe Esserci uno Che si è trovato Malissimo Con Trelleborg Perché Ha beccato Purtroppo Un lotto Fallato O che Preferisce Trelleborg Michelin Sulla strada Perché le Trelleborg Durano di più Insomma È molto Difficile Con torto Quello che Sta di fatto È che Ci sono Differenze Da un produttore All'altro In base Alla tecnologia Per esempio In base Alla pressione E il carico Una Michelin Ti permette Di andare A una pressione Leggermente Più bassa Rispetto A una BKT Perché Hanno sviluppato Meglio La tecnologia IEFVF Quindi È difficilissimo Darti una risposta E L'argomento Come puoi vedere Ha occupato Tanto tempo Ed è Super complesso Vai avanti Con un'altra Certo Stefano Zamparini Buonasera ragazzi È trappolata Da poco La notizia Che John Deere Ha sviluppato La guida autonoma Cosa ne pensate È veramente Un'ottima idea Per risparmiare Tempo e denaro Oppure È un'idea Che purtroppo È stata appartenita Troppo presto Parlare All'italiana Allora Ema Respira Quando devi Formulare Una domanda Facciamo in fretta Eh lo so Ma Prendi Prendi un respiro E oltretutto È la connessione Che anche un po' Va malina Quindi ti sento Un po' robotico Comunque Ho capito Ma dimmi Chi l'ha fatta La domanda Stefano Zamparini E chi c'è dentro In partita Stefano Zamparini E indovina Chi è che l'ha Selezionata apposta Giuliano Ecco Niente Allora È sicuramente Una tecnologia Prematura Soprattutto Per l'area Italiana E l'infrastruttura Tecnologica Italiana Di connettività Mi viene in mente E quindi Ne vedremo Delle belle È una cosa Super interessante Ha catturato L'attenzione Di tantissimi Un plauso A John Deere Che è riuscita Ad arrivare sul mercato Non con una start up Non con idee Raffazzonate Ma con qualcosa Di veramente Solido Ed effettivamente Sembra Funzionante Ho grosse aspettative Su Su questa cosa Spero di non essere Deluso Ma Caro Stefano Zamparini A che ti sta rispondendo Direttamente Ne vedremo Delle belle Appunto E vedremo Gli sviluppi Soprattutto Vedo Diciamo L'Italia Anche altre nazioni Con grossi problemi Sull'infrastruttura Tecnologica E anche La conformazione Del territorio Quindi Attenzione Bisogna vedere E sono curioso Di vedere Cosa succederà Ne hai un'altra? Sì Ultima Ultima Vai Con l'ultima Gabriele Fia Ciao Giuliano E complimenti Del video Nonostante ci sia sempre La presenza di Ema Ma tutti ce l'hanno con te Ce l'hanno con me Forse li seleziono apposta Ops Vero Nei tre terreni Ali fuori Solco Rintro solco Ciao Allora Cerco Ovviamente Se le condizioni Del terreno Come umidità Lo permettono Quindi non c'è troppo fango E non c'è troppo strettamento Cerco Assolutamente Di arare Fuori Solco Assolutamente Voi dovete capire Che quando arate in solco Andate con la ruota A compattare il terreno Alla profondità Qui state arando Ok Quindi si dovrebbe cercare Sempre di arare Fuori solco È meglio Agronicamente parlando Comunque Capita spesso Che purtroppo Per condizioni climatiche Per esempio Continua a piovere C'è il fango Una necessità di arare Cosa va a fare? Va appunto Ad arare in solco Perché sotto a 40 cm Troverà del terreno Compresa Ok Perché magari La superficie È più bagnata E fangosa Rispetto alla profondità Punto Mi è successo Una o due volte Infatti l'unico video Di aratura Che è presente sul canale Sul mio canale youtube De Italian Farmer È un video di aratura Entro solco Però io ragazzi Il 90% delle volte Aro Anzi Non il 90% delle volte Tutte le volte In cui si riesce Aro Fuori solco E ho un aratro Un gran aratro E entro fuori solco E salivano le hitters E ti dico No non è vero Ma vabbè Ma quella è normale Io ragazzi Vi sto dicendo Un po' com'è E vi parlo sempre Come ho detto La scorsa volta In base alla mia realtà Perché Veramente C'è una differenza Anche solo Nelle varie regioni D'Italia Io comunque Ema ho finito Ho finito il campo E l'ho finito Le domande Ok L'ho finito in maniera Super realistica Perché ho fatto i quattro giri attorno E Bello bello Con le cps Vedremo se verranno rispettate Le file In questo farming Ma dalle prove che ho fatto Sembra proprio di sì E Ho finito proprio Il 3% di semi Quindi È proprio Giusto Bravo Secondo me di semi Ne hai un po' più il tè Nel cervello Ema No so che Intelligenza Speramente sì Semi ho detto Semi Non ti ho detto Intelligenza Ma semi Vuol dire Vuol dire Semo Capito Eh guarda Non l'ho capito Ah ok Perfetto No comunque Appunto ho finito Appena appena Ho il 3% Di conseguenza Proprio i giusti giusti E torno a casa A fare l'altro campo Di fianco Al colza Sì E poi Vedo l'ora che passi Anche questa stagione Per fare le altre coltivazioni E sorgo E le nuove Cosa c'è di nuovo Il sorgo E basta Sì il sorgo Sicuro che Ci sono l'Uva Vabbè Vabbè Lascia perdere Mi intendo di Seminabile Il sorgo Ok Poi prendiamo Il passaggio di livello A 40 all'ora Come la Beatrice Scrocchi Che Ragazzi Per chi è vecchio del canale Si ricorderà Questa Questa citazione Comunque non è niente Di Di contra Beatrice Anzi Ci mancherebbe È una battuta O no Emma Ma tu c'eri Quando facciamo questa battuta Certo Le facevamo anche in live Le avevo fatte Un sacco di volte Vero Te ricordi Te ricordi No dai Diciamo Beatrice Scrocchi È quasi un'amica Quindi Assolutamente Lunge da me Offenderla Ma Figurati se vede Il video Dai Lascia Per quello Non glielo mandano Non glielo mandano Te lo dico io Comunque Ciò dopo sento Su parole Detto questo Vi faccio salutare Da Stefano Zamparini Che è qua In chat E che probabilmente Deve frenare Ecco Ciao a tutti Perfetto L'ho beccato in un momento Sbagliato Vi aspetto tutti sul server Per avere anche La possibilità Oltre che giocare Con me sul server Anche di giocare A diciamo Un po' A scelta A sorte Qua Nella partita principale Della serie del canale E poi vi faccio salutare Anche da Ema Ciao a tutti Io vado a finirmi La mia semina Della soia E noi ci vediamo Eh Direi direttamente Con le trebbiature Del colza Quasi quasi Dato che non l'abbiamo Fatto vedere Cosa dici Ema? Certo Certo Cosa hai fatto? No Cosa hai fatto? Io però Che finisci il video Prima di me Ma sei una Cacchetta Ma come Ma cosa Come hai fatto? Spiegamelo Stavo guardando su Con i due balloni E si è girato tutto Ma eri in velocità E hai curvato Sì è in velocità Quindi c'è l'ora Ma fai schifo Massimo Guarda che se vede Sto video fare sì Non ci parla più assieme Quando ci vede in fiera Ci spara Comunque Niente Però guarda che bel lavoro Che ho fatto lì Guarda Dove? Qua in fondo Qua Guarda Allora Partiene da questi qua Che hai lasciato qui vicino a farlo Sono i balloni Che hai selezionato di tenere Per un totale di Dai Emma 8x2 4x4 Dai 4x8 Oppure 4x4 Sono 4 Sono 4 file da 4 Emma 4 file da 4 Eh 4 file da 4 12 Teoria No aspetta Mi fai confusione Aiuto Ti ho detto 8x2 fa 16 4x4 fa 16 2 muri da 8 O 4 file da 4 Aiuto ragazzi O ancora Ancora dimmi l'altra possibilità Dimmi l'altra possibilità Mi fai morire 8 file 8 blocchi da 2 8x2 2x8 Mamma mia ragazzi Che schi Io faccio cagare in matematica ragazzi Maema Maema Si vai a seminare dai Ciao ragazzi Al prossimo episodio Ciao ragazzi